ciao a tutti e bentornati su katy and made io sono katy ed oggi andremo a realizzare questa mini bag è una borsa molto estiva realizzata per metà d'uncinetto ma le cornici in legno ed ora vi lascio direttamente alla lista dell'occorrente dunque per questo progetto andremo ad utilizzare innanzitutto le cornici in legno che ha realizzato appositamente per me simona della pagina facebook momis che vi lascio indicata qui sul video o comunque nel box informazioni qui in basso queste cornici sono completamente personalizzabili le realizza lei con il suo compagno quindi vi consiglio ovviamente di andare a curiosare la sua pagina facebook fa anche lei tutorial di borse quindi potete prendere spunto anche dai suoi tutorial è bravissima quindi per quanto riguarda le basi i nostri inserti andremo ad utilizzare questi a me anche inciso il mio logo come vi ho detto sono completamente personalizzabili per quanto riguarda il filato andrò ad utilizzare il cordino spesso di maxit volevo prendere il cordino thai normale però non c'era del colore che avevo scelto che è color girasole quindi ho scelto il cordino spesso ne ho prese due rocche così ne ho 500 grammi a disposizione ma sicuramente mi avanzerà spero perché voglio farci qualcos'altro per quanto riguarda l'uncinetto andrò ad utilizzare il 4 e mezzo e poi ci occorrerà l'ago tirafettuccia poi ovviamente accessori vari come termo indurente o rete fodera chiusure cose varie quello potete farlo a vostro piacere quindi ci armiamo di tutto il materiale ed iniziamo con il nostro progetto dunque ragazze questo sarà il risultato diciamo finale della nostra borsa ne ho già realizzato uno perché avevo bisogno di fare delle prove fuori video perché altrimenti non sapevo cosa dirvi quindi andremo a realizzare l'altro insieme come potete vedere ho realizzato un semplice pannellino che poi ho cucito al pannello in legno quindi mi vado a prendere l'altro pannello e lo posiziono in questo modo perché partirò esattamente da questa parte questo è il dritto del pannello in legno lo mettiamo così e partiamo dalla parte superiore quindi da qui vado quindi ad avviarmi le mie catenelle che vi lascerò indicate qui in basso ok lavorate le mie catenelle adesso non farò altro che tornare indietro a maglia bassa quindi andrò a lavorare una maglia bassa in ogni catenella che mi ritrovo sottostante ok terminata la riga ci ritroveremo più o meno in questo modo calcolate che vi lascerò anche la misura in centimetri nel caso utilizzate un filato diverso dal mio quindi io mi metto da parte questo pannello poi man mano lo misurerò fuori video però comunque vi lascerò indicate le maglie da lavorare quindi ora dovremo praticamente andare a lavorare normalmente poi pian piano dobbiamo andare a diminuire perché qui il diciamo il semicerchio chiamiamolo così va a restringersi quindi andiamo semplicemente a fare delle diminuzioni quindi io mi vado a lavorare il resto del pannello appunto fantasia che è un punto cioè io chiamo punto fantasia ogni punto che è formato da maglie messe a casaccio così forse lo abbiamo già visto e magari gli ho dato anche un altro nome però vabbè chiamiamolo punto fantasia non ha un nome quindi volto il lavoro faccio una catenella lavoro una maglia bassa nel primo punto poi salto un punto vado nel successivo e lavoro una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto salto un punto vado nel successivo e lavoro di nuovo una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa e procedo così per tutta la riga nell'ultimo punto vado a lavorare una maglia bassa poi volto il lavoro faccio una catenella una maglia bassa nel primo punto quindi sulla maglia bassa sottostante vado a lavorare una maglia bassa e poi andrò a lavorare lo stesso modulo che abbiamo lavorato nel giro precedente nella riga precedente quindi punto al centro del modulo sottostante quindi qui abbiamo una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa noi puntiamo l'uncinetto nello spazio formato da una catenella e andiamo a lavorare al suo interno una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa in questo modo procedo salto tutti gli altri punti vado nello spazio successivo sempre formato da una catenella e vado a lavorare sempre una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa e procedo così per tutta la riga termino con una maglia bassa nella maglia bassa sottostante volto il lavoro faccio una catenella ripeto lo stesso procedimento che abbiamo fatto per la riga precedente quindi per questa lo ripeto ancora una volta ripeteremo questo procedimento per il totale di righe che vi lascio indicato qui in basso insieme alla misura in centimetri ok arrivate a questo punto iniziamo a diminuire perché tanto non ci serve fare una cosa spropositata quindi andiamo a diminuire nel modo che vi farò vedere facciamo una catenella voltiamo il lavoro e andremo a diminuire in questo modo salto il primo punto che ho lavorato finora quindi la maglia bassa la vado a saltare punto l'uncinetto direttamente nel modulo nello spazio che si trova tra le due maglie basse e vado a lavorare direttamente il modulo formato da una maglia bassa una catenella e una maglia bassa procedo quindi in questo modo per tutta la riga mo la abbassare e quindi in questo modo chiudo con una maglia bassissima nell'ultimo punto volto il lavoro faccio una catenella e dovrà ripetere lo stesso procedimento della riga sottostante quindi vado direttamente a lavorare il modulo formato da una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa al centro del modulo sottostante così per tutta la riga ok ho terminato questa riga vado a chiudere con una maglia bassissima a questo punto volto il lavoro faccio una catenella lavoro una maglia bassa al centro del modulo sottostante in questo modo e poi procedo lavorando il modulo che abbiamo lavorato finora quindi una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa in ogni spazio che mi ritrovo sottostante quindi in ogni spazio formato da una catenella vado a lavorare questo modulo e nell'ultimo modulo vado a lavorare una maglia bassa lavoro una maglia bassa nell'ultimo modulo volto il lavoro faccio una catenella procedo lavorando il modulo formato da una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa in ogni modulo sottostante ok ho terminato la riga io preferisco chiuderla con una maglia bassissima anche se so che dopo rifinirò il bordo preferisco lasciare il bordo leggermente più pulito quindi mi faccio la maglia bassissima nella maglia sottostante volto il lavoro faccio una catenella procedo lavorando nello stesso modo quindi lavoro una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto ovvero al centro di ogni modulo andiamo a lavorare questo gruppo di maglie nel caso avete difficoltà a seguire lo schema perché io in realtà lo sto facendo al momento quindi ogni riga misuro il pannello e mi regolo in base alle diminuzioni che devo fare se avete difficoltà a seguire lo schema in questo modo comunque nel box informazioni qui in basso c'è il link per il mio blog e trovate la scheda tecnica scritta lì quindi non preoccupatevi terminata la riga avvolto il lavoro faccio una catenella vado a lavorare una sola maglia bassa all'interno del modulo sottostante del primo modulo e poi procedo lavorando una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa in ogni modulo sottostante ovviamente dovrò terminare con una sola maglia bassa nell'ultimo modulo nell'ultimo modulo lavoro una maglia bassa volto il lavoro faccio una catenella e procedo lavorando il modulo formato da una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa in ogni modulo sottostante ok terminata questa riga adesso io ho raggiunto la misura che mi serviva per ricoprire il mio pannello non preoccupatevi se il pannello non vi viene perfetto perché ora lo andiamo a rifinire in maglia bassa quindi poi la forma sarà perfetta quindi facciamo una catenella andiamo a lavorare una maglia bassa nello stesso punto sottostante quindi andremo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante quindi ogni maglia bassa equivale comunque ad una riga o una riga equivale ad una maglia bassa quindi ci andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante mentre negli angoli lavoreremo due maglie basse quindi non il solito aumento formato da una maglia bassa una catenella ed una maglia bassa ma solo due maglie basse terminato il giro di rifinitura tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura a questo punto lo dobbiamo andare a cucire al nostro pannello io utilizzerò l'uncinetto tre e mezzo per passare dai fori però comunque se voi vi fate pari il pannello da simona potete anche richiedere di farvi fare dei fori un po più grandi io andrò quindi ad utilizzare un uncinetto numero tre e mezzo per lavorare in questi fori perché passa benissimo e vado a bloccarmi in qualche modo il pannello se preferite potete anche cucire direttamente con ago tirafettuccia però io preferisco lavorare a punto catenella in modo che comunque il lavoro è più rifinito quindi vado a crearmi il cappietto iniziale vado a puntare l'uncinetto all'interno di uno dei fori che mi ritrovo qui sulla parte interna non questi esterni ma quegli interni punto l'uncinetto esco dalla parte interna prendo il cappietto lo tiro fuori punto poi l'uncinetto nel foro successivo esco sempre dall'altro lato prendo il filo lo tiro fuori e vado a chiudere a maglia bassissima andrò a cucire il pannello in questo modo ok una volta cucito tutto il pannello al nostro pannello in legno andiamo a tagliare il filo e chiudiamo con l'asola di chiusura a questo punto dobbiamo andare a creare il nostro giroborsa mi andrò innanzitutto a rifinire tutto il bordo del mio pannello in legno ovviamente ripeterò lo stesso procedimento anche per l'altro pannello quindi mi creo il cappietto iniziale utilizzo sempre l'uncinetto 3 che passa perfettamente all'interno dei miei fori tengo il filo sull'uncinetto punto l'uncinetto nel primo foro prendo il filo e lavoro una maglia bassa siccome io sto utilizzando un filato abbastanza spesso vado a fare semplicemente una maglia bassa in ogni foro ma se voi utilizzate un filato un po' più sottile regolatevi un attimino in base a quante maglie dovete fare penso che potreste fare due maglie basse e una maglia bassa alternate per tutto il giro terminato tutto il giro faccio una catenella così mi blocco poi successivamente il lavoro taglio il filo e lo vado a nascondere tra le maglie ripeto lo stesso procedimento anche per l'altro pannello a questo punto dovremo andare a creare il giro borsa io per farlo mi aggancerò direttamente nelle maglie che ho lavorato qui lungo il bordo del mio pannello in legno quindi riprendo l'uncinetto 4,5 che ho utilizzato per il resto della lavorazione un nuovo filo cappietto iniziale mi tengo il filo sull'uncinetto e andrò a lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante per tutto il giro e per i giri che vi lascio indicati qui in basso insieme alla misura in centimetri che sarà comunque l'ampiezza quindi per questo primo giro vado semplicemente a lavorare una maglia bassa in costa dietro mentre per i giri successivi lavorerò una normale maglia bassa quindi punto l'uncinetto nella metà catenella della maglia sottostante e lavoro una maglia bassa poi questo filo lo andrò a nascondere in un secondo momento punto l'uncinetto nella maglia successiva prendendo solo la metà catenella e lavoro una maglia bassa e procederò così per tutta la riga e per le righe successive ricordandoci sempre che comunque per le righe successive dovremo andare a lavorare una maglia bassa normale e non in costa quindi raggiungiamo queste misure e poi ci vediamo per cucire entrambi i pannelli quindi assemblare la borsa bene una volta terminata tutta la lavorazione questo sarà il risultato ho terminato il gomitolo mi ha avanzato questo po' di filo che utilizzerò per assemblare i due pannelli quindi dovremo assemblarli in questo modo andrò semplicemente a cucire questa parte con le asole che mi ritrovo lungo il bordo dell'altro pannello quindi vado a fare una catenella e tiro fuori tutto il filo ok poi vado a tagliare un po' di filo non lo porterò tutto dietro perché altrimenti non affitto mai mi regolo un attimino penso che questo possa bastare quindi questo lo metto da parte io non fodererò questa borsa ma voi volendo potete farlo quindi ora passiamo alla cucitura quindi utilizzando l'ago tira fettuccia dovrò far combaciare la maglia che si trova sul giro borsa con la maglia che si trova sull'altro pannello quindi questa è la catenella che abbiamo lavorato a fine lavoro io vado a puntare l'ago in questo modo quindi prendo solo la metà catenella interna e prenderò solo la metà catenella interna della maglia che si trova sul pannello in questo modo tiriamo non è la posizione più comoda del mondo procedo l'ago nella maglia successiva del pannello prendendo solo la metà catenella interna e nella maglia successiva del giro borsa prendendo solo la metà catenella interna tiro per bene e dovrò procedere con la cucitura in questo modo terminata la cucitura andiamo semplicemente a bloccare il filo tra le maglie e tagliare l'eccesso bene ragazze questo è il risultato finale della mia borsa a me piace veramente tantissimo non l'ho fatta esageratamente grande ma è veramente piccola per l'estate per le passeggiate di sera è perfetta quindi io spero che questo progetto sia piaciuto altrettanto anche a voi mi raccomando fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su ringrazio tantissimo Simona di Momis per aver realizzato per me queste cornici vi invito a dare un'occhiata alla sua pagina perché realizza delle cose meravigliose se vi piace questa cornice potete farvela realizzare anche con il vostro marchio inciso così non dovete applicare altre targhette varie sulla lavorazione e quindi rovinare la bellezza della borsa trovate il suo contatto nella descrizione qui in basso magari ve lo lascio anche qui sul video e nulla vi invito a condividere il tutorial con tutte le vostre amiche creative se vi fa piacere ovviamente iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial arriverà anche un altro tutorial riguardo alla cornice che sarà leggermente diverso quindi mi raccomando iscrivetevi così riceverete la notifica quando uscirà il prossimo tutorial potete iscrivervi anche al mio gruppo facebook crochet with love così potete condividere tutte le vostre creazioni sul mio gruppo insieme ad altre amiche creative seguitemi anche su instagram perché pubblico tutte le anticipazioni dei prossimi tutorial a me non resta che ringraziarvi per aver seguito anche questo tutorial e darvi appuntamento al prossimo video ciao